Dopo tre sedute fatte e quasi 140 emendamenti, il Consiglio Comunale di Fano ha approvato un nuovo PRG. Secondo lei però i fatti smentiscono le dichiarazioni e le promesse fatte dal Sindaco in un solo. Quali nello specifico? Nello specifico questo piano regolatore doveva essere coraggioso, doveva unire la città pubblica a quella privata, inserendo anche dei neologismi, ad esempio come quello del Community Hub, cioè dei luoghi all'interno del quale nella città si potressero trovare nei singoli quartieri delle zone caratterizzate appunto dalla socialità, nei quali i cittadini potessero riunirsi, trovarsi. Tutto molto bello, però anche qui ci ritroviamo con dei progetti che rimarranno principalmente sulla carta, perché non è stato fatto uno straccio di progetto tecnico-economico, non sappiamo né quanto costano né come si pagheranno. Addirittura nel corso di questi 140 emendamenti ne abbiamo trovati tre che rintroducevano alcuni Community Hub che erano stati addirittura dimenticati. Inoltre questo piano regolatore aveva l'ardua volontà di dover ridurre sensibilmente il consumo di suolo, solo che si sono dimenticati di dirci rispetto a cosa si riduceva il consumo di suolo. Il 65% di quello che era approvato nel vecchio piano regolatore ce lo ritroviamo nel nuovo e abbiamo visto come sono state inserite circa 10.000 metri quadri di nuovo commerciale dove prima c'era verde pubblico o dove prima c'erano aree residenziali. Aree residenziali che sono state invece incrementate perché si pensa che nel prossimo futuro possano arrivare circa 5.700 nuovi abitanti pari a un 10% in più di consumo del suolo a fronte di questi nuovi cittadini. Quindi di fatto di così sconcertante, di così nuovo non c'è nulla in questo piano regolatore. Vediamo ad esempio come novità secondo noi negativa è l'inserimento di nuovi vincoli come quello delle zone A2 poiché si prevede di inserire lungo quasi tutta la fascia costiera e anche qualche altra zona nei singoli quartieri una tutela, un vincolo su queste zone A2. Cosa significa? Significa che introducendo una zona vincolata i proprietari delle abitazioni non potranno così agevolmente come facevano prima ristrutturare la propria abitazione. Ma come questi ci sono veramente tanti altri temi che sono emersi durante il dibattito uno dei quali è il fatto che questa amministrazione oramai sta diventando sempre meno credibile agli occhi della città. Pensate agli imprenditori che sono venuti a Fano, che hanno cercato di investire sul nostro territorio portando innovazione e posti di lavoro. Alcuni sono stati trattati diciamo con molto sospetto altri addirittura sono stati forzati a fare causa al comune intimando di portare avanti dei progetti che in prima battuta avevano redatto insieme ai tecnici comunali. Quello che fa strano anche ricordare è come l'assessore Fanesi forse in una visione distaccata dalla realtà dica di aver sistemato dei problemi che arrivano dal piano regolatore Aguzzi. Ha detto in conferenza, ha detto in consiglio comunale come ad esempio i quartieri del Poderino ed altri siano stati snaturati dai permessi edificatori che sono stati realizzati beh si dimentica l'assessore Fanesi che governa 10 anni sarebbe stato sufficiente portare una variazione dell'NTA cioè le norme tecniche di attuazione o una piccola variante in consiglio comunale per evitare tutto questo scempio a detta sua. Quindi noi crediamo seriamente che questo piano regolatore sarà un piano molto limitativo e non solo non è lungimirante e sicuramente dovremo metterci mano una volta arrivati alla guida della città.